La Lady Nail è un'azienda che nel tempo è riuscita a crescere in maniera davvero esponenziale, sono con Manuela Giano, una delle responsabili tecniche all'interno dell'azienda, un'azienda che costa il suo fattore di successo in cosa? Quali sono i prodotti che ne hanno determinato questa crescita? La Lady Nail ha più punti di forza, se parliamo di prodotti il nostro prodotto di nicchia è il Gel Fast, che è un gel costruttore che polimerizza in UV in 15 secondi e lo troviamo sia trasparente che rosa, ci permette di fare strutture, allungamenti sia medi che molto estremi. I colori ne abbiamo tantissimi, sia come gel colorati, variamo tantissimo dai camaleontici agli opachi ai metallici ai perlati per arrivare ai semi permanenti, dai neon ai naturali alla french, tantissimi colori, quindi c'è l'imbarazzo della scelta. Tutti esclusivamente prodotti Lady Nail, prodotti di qualità e prodotti che ci consentono di accontentare tutte le clienti. Noi puntiamo molto sulla formazione, l'azienda innanzitutto punta molto sulla formazione di noi tecniche, ci teniamo sempre in continuo aggiornamento. Poi offriamo una formazione vasta e ampia a tutte le alunne, alle persone che vogliono avvicinarsi e entrare nel mondo della ricostruzione unghie. Che cos'è il Campus 2015? Allora, il Campus è un grande evento di formazione al quale si possono iscrivere, ci sono due livelli, il livello master e il livello delle alunne, appunto le persone che stanno iniziando. Ci sono dei grandi nomi della ricostruzione unghie che parteciperanno come docenti, che sono appunto Alexander Finco, Barbara Iulivari, Cristina Iulivari e David Fowler, che si occuperanno appunto a toccare tanti punti diversi della formazione. Ima Polillo è una tecnica, un'insegnante all'interno della scuola di formazione Lady Nail, cosa deve avere oggi l'unico tecnica professionista griffata Lady Nail per essere soddisfatta e avere successo nel suo lavoro che Lady Nail riesce a dare. Per andare avanti in questa azienda bisogna comunque curare molto la formazione, avere sempre entusiasmo. La nostra è un'azienda leader, sempre all'avanguardia, in continua ricerca di prodotti nuovi e nuovi sistemi di ricostruzione. Non vi improvvisate mai, assolutamente dovete essere delle professioniste, curare la vostra formazione è importantissimo e diffidare di prodotti che non sono certificati. Affidatevi a un'ottima azienda come Lady Nail. Francesco Cezaro, a te la comunicazione dal punto di vista multimediale e del web dell'azienda Lady Nail che anche in questo senso è cresciuto tanto, Lady Nail 2.0 che si avvicina al 3.0. Siamo partiti innanzitutto con il rifacimento del sito, oggi www.ledynail.it abbiamo sviluppato molto i social network, in particolare Facebook, attualmente abbiamo quasi 24.000 utenti quindi like sulla pagina che ci seguono, abbiamo anche attivato l'account Instagram, piuttosto che Google Plus e Twitter quindi siamo abbastanza seguiti. Il sito ha dato maggiore slancio a tutte le nostre attività, le riusciamo a pubblicizzare molto c'è il catalogo online che è consultabile, quindi trasmettiamo attraverso il sito tutte le attività, quali anche questa della fiera e soprattutto la formazione, i corsi, quindi un altro zoccolo duro dell'azienda Lady Nail che si sviluppa sia per quanto riguarda la formazione che per quanto riguarda l'innovazione nei prodotti quindi diciamo sul sito sono ben evidenziate queste funzioni Abbiamo anche attiva una sezione dedicata proprio alla nail art, a tutti coloro che vogliono cimentarsi nella nail art che appunto si chiama Nail Club, dove è possibile iscriversi, creare una propria pagina, caricare le proprie immagini e quindi le proprie creazioni, chiamiamole così Il prossimo progetto sarà sicuramente un'app per poter interagire in tempo reale con la nail art e quindi con Lady Nail I successi raggiunti da Lady Nail Nel 2014 siamo stati premiati nella formazione con un premio del Love Your Nail Awards e dove praticamente ci ha premiato per la qualità della formazione Dove arriverà Lady Nail? Allora noi non ci poniamo limiti, noi siamo no limit abbiamo lunghi obiettivi, grandissimi obiettivi da raggiungere quindi qualità nella formazione, nei prodotti e lavorare divertendoci assolutamente e tutto questo è Lady Nail ovviamente non c'è